oggi andiamo a vedere due cose uno quali sono le nostre entrate fisse medie e quali sono le nostre spese fisse medie e due l'allocazione dei nostri fondi attuali quindi del nostro patrimonio quanto abbiamo investito rispetto al patrimonio totale benvenuti ragazzi nuovo video format un pochino diverso come abbiamo visto anche nel video precedente ho deciso di cambiare un pochino la modalità di contenuti e la tipologia di contenuti di questo canale per portare sempre progetti di investimento ma anche lavorare un pochino sulla gestione delle finanze oggi come hai visto dal titolo parte una piccola serie dedicata alla gestione delle proprie finanze dato che io stesso da oggi primo aprile ho iniziato a monitorare meglio quanti soldi ho quanti soldi ho investiti le spese che ho sia fisse che quelle extra diciamo per avere un'idea molto più chiara di quelli che sono i soldi e come li utilizzo quelli che sono i miei soldi di come li utilizzo in maniera tale da poter decidere un piano strategico per investire nella maniera migliore tutti noi della community abbiamo uno scopo che è quello di ottenere un'entrata extra rispetto al proprio lavoro e come ho detto più volte almeno nel nel mio obiettivo personale c'è anche la volontà un giorno di vivere soltanto degli investimenti per avere più tempo libero e vivere la mia vita un po slegato dal dal lavoro nel video precedente abbiamo parlato di idea di ricchezza di vita ricca anzi vattelo a guardare nei commenti magari commenta anche tu qual è la tua idea di vita ricca inteso come il tuo desiderio di come vivere la vita se avessi la possibilità di scegliere al cento per cento in questo video qui mi piacerebbe tu commentassi qui sotto se sei in grado di gestire le tue finanze se segui già il l'andamento dei tuoi soldi se monitori quello che spendi e le tue entrate e chiaramente sarebbe sempre gradito un like e l'iscrizione al canale campanella eccetera eccetera perché le idee sono tante mi piacerebbe portare contenuti sempre più interessanti anche perché no delle persone in questo canale che ci possano aiutare in questo obiettivo diciamo economico di investimento finanziario bando alle ciance andiamo allo screen recording perché oggi parliamo di due excel che ho creato per gestire le mie finanze di aprile ce ne sono un po ma oggi ne vediamo soltanto due se no diventa un pochino troppo complicato e vediamo come sono fatti e come compilarli per arrivare poi a fine mese con un'idea molto più chiara di quelli che sono i nostri obiettivi la gestione dei soldi le spese le entrate e anche quanto andiamo a dedicare agli investimenti nello specifico oggi andiamo a vedere due cose uno quali sono le nostre entrate fisse medie e quali sono le nostre spese fisse medie per vedere quanto margine abbiamo per le spese che possono essere di vario tipo e quindi anche di investimento e due l'allocazione dei nostri fondi attuali quindi del nostro patrimonio quanto abbiamo investito rispetto al patrimonio totale se abbiamo dei soldi investiti in maniera tale da farci anche un'idea più precisa e vedere nei mesi come cambia eccoci qua come promesso nel screen recording nello screen recording questo è il video di cui ti parlavo poco fa vattelo a vedere perché mi piacerebbe avere appunto nei commenti un diciamo la tua idea di quello che è la ricchezza mi avete già commentato delle cose molto interessanti cerchiamo di ravvivare un pochino anche questo canale perché poi più trazione ha più posso fare cose interessanti chiedere di più con più forza a chi ci può interessare magari ci dà qualche vantaggio magari qualche personaggio che ci può insomma aiutare anche a gestire meglio le finanze detto questo come promesso andiamo alla gestione di questi due file excel allora dove li trovi due file excel li trovi nel mio server discord qui c'è una nuova sezione che si chiama gestione finanze adesso creerò qui dentro un chat un canale anzi lo creiamo insieme che si chiamerà patrimonio ok è un canale che si chiamerà spese mettiamo sempre un soldino spese entrate e questo lo chiamiamo patrimonio investimenti quindi metterò questi file in formato sia per mac sia per excel classico qui dentro e ve li potete venire a scaricare ovviamente gratuitamente quindi andate nel link in descrizione di questo video e trovate il link a discord per poi riuscire a andare a scaricare questi file ci saranno un bel po' di cose questo mese perché ho proprio preso in mano la gestione delle mie finanze in maniera precisa e dettagliata vi do anche un'altra dritta c'è un'app che si chiama uno money molto molto carina poi magari ci faccio un video a parte si scarica eccolo qua si scarica google play apple va bene per tutte e due questo chiaramente andate direttamente su google play è molto carina perché si può segnare tutto quindi si segnano i conti le carte eccetera eccetera poi le spese e le entrate ti fa il budget è molto molto carina per avere tutto sott'occhio io poi preferisco farmi mensilmente un file perché mi piace un po' appunto questa modalità di gestione del tutto allora andiamo prima sul file finance questo qua come vedete ha la tab entrate spese aprile 2004 come sempre si può duplicare il foglio e andare a cambiare perché poi andremo a fare mese per mese quindi non ci sarà da scaricare tutto ogni volta il file ricompilarlo da capo ma se maggio per esempio si crea ci sarà uguale e andremo a cambiare eccetera eccetera allora come si compila questo file qui è molto semplice nella parte entrate dobbiamo mettere quelle che sono le nostre entrate fisse ovviamente se come me siete dei liberi professionisti magari un mese guadagnate il doppio dell'altro mese quello che vi consiglio di fare per fare questo calcolo è guardare gli ultimi sei mesi di entrate o l'ultimo anno e facciamo sei mesi perché è un mondo che si evolve molto velocemente quindi direi sei mesi di entrate fate il totale diviete per sei e mettete una cifra la cifra media ovviamente ok poi se avete commissioni referral sponsorizzazioni lo stipendio qualsiasi cosa al netto delle tasse quindi al netto delle tasse già calcolato tolte le tasse va qui se vogliamo aggiungere adesso io ho messo palestra perché io ho una palestra online quindi non è la spesa della palestra però posso mettere azienda x ok posso mettere referral nel mio caso perché ho dei referral se voglio aggiungere una voce tiro questa linguetta e metto sponsor chiamo che sono mi paga un'azienda per per promuovere i prodotti dico è così quindi questo è il reddito totale devo al netto delle tasse devo sapere quanto mi entra al mese mediamente poi nelle uscite invece andiamo a vedere tutte le uscite fisse se no la spesa la spesa per mangiare la benzina eccetera eccetera quella la vediamo in un'altra maniera adesso io parlo di spese fisse immutabili che possono essere appunto affitto o il mutuo o delle tasse sulla casa in questo caso si parla tutto di immobili l'assicurazione sulla casa le spese condominali quindi si fa il solito calcolo si guarda tutte le spese condominali si divide per 12 e si vede quanto si paga io ho visto che pago 1000 e qualcosa all'anno quindi mi viene 85 euro al mese tra spese condominali luce gas eccetera eccetera anche qui cliccandoci sopra viene fuori la griglietta si tira giù qua e si aggiungono e si aggiungono delle voci quindi abbonamenti intendo abbonamenti come netflix la palestra io pago delle piattaforme online per qualcosa drive dropbox ok finanziamenti ho dei finanziamenti aperti ok scrivo ho la macchina da pagare ok pasti viaggi divertimento lo cancelliamo perché abbiamo detto che non è non è una spesa fissa in questo caso quindi se ho una spesa in meno faccio cancello quello che c'è qui da questo file tiro su devo spostare devo lasciarmi l'ultima riga libera sotto quindi questo lo sposto su ho sbagliato questo lo sposto su questo lo sposto su questo lo sposto su come vedete io sono molto empirico non sono molto bravo nei fogli di calcolo ovviamente questo l'ho preso già fatto e l'ho modificato e se voglio poi togliere una voce basta tirare su se voglio aggiungere una voce tiro giù come sapete io ho con la mia compagna due cavalli quindi posso mettere spesa cavalli che sono le pensioni dei cavalli e le aggiungo e mi si aggiunge chiaramente al totale e qui sotto mi viene l'avanzo quindi adesso ho fatto delle cose a caso ovviamente l'ideale è avere un reddito meno spese quindi sapere esattamente quanto ci resta rispetto a quanto spendiamo fisso e quanto ci entra perché sapere quello che ci resta che idealmente si dovrebbe attestare almeno al 50% quindi dovrebbe uscirci almeno al 50% di quello che spendiamo come spese fisse da lì lo vedremo poi successivamente e lo andremo a suddividere in spese di vario tipo tra cui anche gli investimenti quindi vi farò vedere il mio le mie percentuali di questo disavanzo qua quindi quello che dobbiamo fare adesso è andare a segnare quanto ci entra mediamente al mese e quanto spendiamo mediamente al mese tolte tutte le spese ripeto la benzina cioè gli abbonamenti i finanziamenti il mutuo quelle cose che ogni mese sappiamo il primo del mese ci escono quei soldi lì poi tutto il resto gli extra il viaggio la benzina la spesa il ristorante il amazon quello che è lo vediamo poi a parte ok questo è il primo poi volendo poi a maggio andremo a fare la tab di maggio eccetera eccetera nel secondo file che è questo andiamo a vedere l'allocazione ovviamente io ho messo un po' di cifre a caso l'allocazione nella prima parte patrimonio dobbiamo semplicemente mettere quanti soldi abbiamo in banca ok quanti soldi abbiamo in banca sul paypal in non investiti ok quanto è messo via messo da parte ecco anche con tanti quello che abbiamo via che non è utilizzato per fare nulla e sotto dobbiamo mettere gli investimenti quindi i soldi che abbiamo investiti nelle varie cose vi faccio degli esempi ovviamente vale come nel video precedente si può andare a aggiungere una una voce ok o cancellarne una se in oro non avete niente cancellate l'oro e amen ok togliete la voce cripto quindi tutte le mie cripto in questo caso intendo investimenti veri e propri cioè ho quanti bitcoin ethereum eccetera eccetera il valore ad oggi quindi al primo di aprile di anche se lo fate domani il 2 o 3 non succede niente incominciamo a farlo però ad oggi o un altro giorno o un altro mese basta cambiare le date ad oggi quanto è il valore delle mie cripto non quanti bitcoin ho quanto valgono le mie cripto oggi io ho pandora ho solidity ho l'oro con carisgold e ho iniziato un piccolo investimento sull'sp500 tramite itoro per vedere quanto del mio patrimonio ho investito quindi nel momento in cui ho sparo numeri a caso ovviamente 100.000 euro in banca e ho 22.000 euro investiti so che ho investito il 22% dei miei soldi e questo è importante perché ci serve per capire quanto stiamo rischiando perché un conto è gestire il rischio negli investimenti un conto è gestire il rischio del capitale nel in tutto il capitale che abbiamo è molto importante come distinzione quindi negli investimenti posso scegliere investimenti a rischio più basso e a rischio più alto ma in assoluto come sempre non devo investire tutti i soldi che ho c'è chi consiglia di tenere in banca almeno i soldi per coprire qualsiasi spesa per sei mesi io direi anche un anno perché qualsiasi cosa succede uno ha il tempo di rimettersi in pista in qualche modo quindi è sicuramente un buon un buon consiglio niente il compitino è facile per oggi questi due file li trovate in discord li compiliamo e ci confrontiamo in maniera tale da avere un'idea chiara di quello che spendiamo di quello che ci entra e di quanti soldi abbiamo investito così abbiamo già un attimo di chiarezza ok ci vediamo in discord di chiarezza di chiarezza di chiarezza